Buongiorno a tutti, io farò un intervento brevissimo, sono Vincenzo Barone, il direttore della scuola normale e semplicemente per darvi il benvenuto a questo inizio delle attività di quest'anno, delle attività dei lincei per la scuola che ormai sono diventate tradizionali alla scuola normale e che stanno avendo, mi sembra, un successo significativo e che si stanno allargando anche dai settori tradizionali della matematica italiana e biologia, ormai da un paio d'anni anche alla chimica e da quest'anno faremo anche un po' di sperimentazione nel campo della filosofia, dell'antichistica e quant'altro. Come direttore della scuola il mio compito, incidentalmente sono anche membro dell'Accademia dei lincei quindi ho un doppio cappello in questo momento e la professoressa Barsacchi ha approfittato di questa circostanza per evitare di sedere qui al mio posto, intanto ringrazio essenzialmente lei perché è stata il motore di tutte queste attività in tutti questi ultimi anni che senza di lei non avrebbero avuto inizio e non si sarebbero sviluppate e poi sono invece anche molto contento di poter dire che la scuola ha fatto la sua parte sia da un punto di vista organizzativo sia da un punto di vista scientifico perché molti colleghi sono stati coinvolti nelle varie attività scientifiche e il nostro Ufficio Comunicazioni e Relazioni Esterne, che ringrazio, si è occupato di tutta la parte gestionale credo con una competenza e una capacità che sono di altissimo livello non vorrei aggiungere molto se non ringraziarvi di nuovo di essere presenti e cedere immediatamente la parola al relatore senza levargli altro tempo se non per aggiungere che l'interazione col mondo della scuola, l'interazione alla formazione degli insegnanti la forte integrazione tra didattica a tutti i livelli e ricerca e tra i compiti istituzionali della scuola e un suo maggiore intervento e presenza nel territorio che peraltro è stato iniziato dal mio predecessore quindi sono nel solco della tradizione degli ultimi anni della scuola diventato un segno distintivo delle nostre attività perché riteniamo molto importante poter intervenire di più e poter dare il nostro contributo in tutte quelle che sono le attività anche al di fuori di quelle specifiche di formazione e ricerca che svolgiamo al nostro interno per cui l'unica cosa che posso aggiungere è che il nostro contributo e il mio personale sia come chimico che come direttore della scuola continueranno ad affiancare tutte le attività promosse e sperando che questo incontri il vostro interesse e che l'interazione e la collaborazione possa diventare sempre più proficua ne sono sicuro perché se voi guardate la crescita delle attività e del numero di persone coinvolte negli ultimi 3 o 4 anni vi renderete conto che questa è una cosa estremamente significativa e noi speriamo che continui a crescere in questa direzione io non vorrei come ho detto prima aggiungere altro per non rubare troppo tempo e do sicuramente la parola alla persona più interessante della giornata grazie e io parto ringraziando velocemente sia la scuola normale che ci ha sempre offerto una logistica non indifferente per il successo di questi corsi ormai io è il terzo anno che lo faccio è sempre venuta tanta gente e siamo sempre stati molto bene sia l'Accademia dei Lincei sia Giuseppina Barzacchi che anche se non ha introdotto insomma è come ha detto il professore l'anima del polo di Pisa non ci sarebbe stato tutto questo se non ci fosse stata lei quindi grazie a loro grazie a voi di essere qui molti di voi erano qui anche nelle scorse edizioni nei due corsi precedenti e alcuni sono invece nuovi so che purtroppo un po' di gente è rimasta fuori insomma le iscrizioni erano finite dopo pochi giorni mi sembra di aver capito di questo ne sono contento cercheremo come è stato detto di moltiplicare le occasioni visto l'interesse che c'è quest'anno il tema che ho deciso di trattare è un tema abbastanza diciamo caldo il tema della valutazione in particolare della valutazione in matematica oggi l'incontro il primo incontro sarà tendenzialmente trasversale nel senso che parlerò della valutazione facendo qualche incursione rispetto al tema matematico ma in realtà saranno appunto delle riflessioni che sono trasversali a molte discipline se non a tutte le discipline alcune di queste riflessioni perché l'idea è quella di oggi ci intendiamo un po' su quali sono le criticità del tema della valutazione le criticità al giorno d'oggi che sono diverse e delle criticità che c'erano 20-30 anni fa nel valutare perché se valutavano aspetti diversi c'erano altri strumenti per valutare c'erano meno pressioni forse insomma tanti aspetti che sono cambiati e nel prossimo incontro cominceremo a selezionare alcuni aspetti specifici della matematica e cercare di capire come fare a valutare questi e come al solito e anzi più del solito perché sono stato giustamente redarguito dalle tutor di questo corso che sono qui presenti in prima fila e che ringrazio per prima che sono Paola Maggi e Lucia Stelli con cui ho condiviso e condividerò le varie cose da fare e da dire a voi il fatto di fare degli incontri insomma in qualche modo il più possibili interattivi quindi ci saranno delle attività ma a parte l'attività stoppatemi fermatevi ogni volta che avete da insomma chiedere qualcosa o fare dei commenti rispetto a quello che dico soprattutto rispetto a un tema così se vogliamo anche controverso e la prima riflessione è proprio il fatto che negli ultimi tempi è cambiato un po' qualcosa rispetto alla valutazione perché fino a diciamo almeno a dieci anni fa il tema più rilevante più consueto sulla valutazione era la distinzione tra valutazione formativa e valutazione sommativa questo tema è ancora ben presente ma si sono aggiunti tanti altri aspetti fra questi invalsi probabilmente il più rilevante la valutazione di sistema fra questi per le scuole del primo ciclo l'autovalutazione il famigerato RAV e fra questi la certificazione delle competenze insomma come vedete dei temi non da poco ecco mettiamola così tutto questo sta avendo una serie di conseguenze sia formali che sostanziali su le programmazioni su quello che fate in classe su tanti aspetti il fatto che ci siano queste conseguenze dal mio punto di vista è non solo naturale ma è anche voluto la valutazione sia in grande quindi la valutazione in valsi RAV che la valutazione in classe di questo ne parleremo la valutazione che facciamo noi in classe vuole anche dare dei messaggi e vuole in qualche modo anche indirizzare chi subisce la valutazione o chi deve fare la valutazione parlo di subire insomma forse non è il termine esatto ma insomma ci capiamo la cosa che però mi ha colpito quando ho cominciato a occuparmi di questo di riflettere su questo aspetto soprattutto per quanto riguarda la valutazione in matematica è che la mia impressione è che per ora gli effetti siano stati più negativi che positivi gli effetti di tutti questi cambiamenti che invece immagino nell'idea del legislatore volessero essere effetti positivi quali sono le cause le cause sono tante secondo me e cercheremo in qualche modo di sviscerarle alcune di queste in questi incontri una causa diciamo certa è la difficoltà delle tematiche in gioco e su questo l'esempio più classico è il fatto che valutare una competenza ora si parla di valutazione di competenze e si parla anche di traguardi per competenza è certamente più complesso che valutare una conoscenza l'esempio che faccio sempre se io voglio sapere valutare se uno sa fare due per tre li chiedo di fare due per tre se voglio valutare se uno sa affrontare problemi insomma devo forse ingegnarmi un po' di più ecco altra causa l'ambiguità l'ambiguità di varie disposizioni anche ministeriali perché a volte ci sono delle si dice una cosa e poi se ne suggerisce un'altra si dice una cosa e poi si suggerisce il contrario di quella ci sono alcune ambiguità che a volte sfociano addirittura in contraddizioni qualcuna la vedremo ci sono delle scelte di indirizzo a mio avviso discutibili sulla valutazione e ne parleremo anche di questo ma insomma questi saranno accenni ma anche secondo me tutta una serie di leggende falsi miti e interpretazioni di noi insegnanti se volete e di noi comunque persone che si occupano della scuola che si alimentano e si autoalimentano in maniera altrettanto discutibile dice ma quella valutazione servirà per far questo ma questo servirà per far quell'altro ed è tutto un gioco di voci che alimenta delle leggende che creano sicuramente ansia panico non solo negli insegnanti ma anche poi negli studenti è un tema appunto controverso la cosa che secondo me il punto di partenza di questo incontro è che la mia impressione è che il tema sia controverso perché è focalizzato sull'aspetto non primario la mia impressione girando per le scuole parlando con gli insegnanti da genitore fuori dalla scuola è che a livello di discussione la discussione diciamo sulla valutazione sia incentrata principalmente sul come valutare come devo valutare e a volte non solo su come valutare ma su come fare ad ottenere risultati positivi rispetto ad una valutazione data c'è invalsi come faccio a far bene invalsi c'è l'esame di stato come faccio a far bene l'esame di stato c'è l'esame di terza media l'esame di stato di terza media c'è l'esame di qualsiasi altro esame di inglese come faccio a far bene l'esame di inglese e la mia convinzione è che il primo problema sia proprio questo la vignetta che faccio sempre vedere per restituire la mia idea su questo è la seguente ovvero mettere il caro davanti a voi cioè io non posso parlare del come valutare qualcosa se prima non decido a livello di dipartimento a livello di collegio a livello più ampio qui dentro insomma o anche a livello personale chi valuta cosa valuta e perché valuta prima di decidere come valutare io devo discutere di questi aspetti qui perché non c'è una valutazione buona per tutto e quindi diciamo che secondo me questi aspetti sono tutti aspetti cruciali per poi successivamente discutere su come devo valutare come devo valutare dipende da chi è che valuta dipende da cosa voglio valutare e dipende da perché lo voglio valutare vedremo che valutatori ce ne sono tanti cosa valutare posso valutare tantissime cose perché valutare posso valutare per tantissimi motivi a seconda delle combinazioni di questi tre elementi poi ci saranno modi migliori o peggiori di valutare di come valutare chi valuta e qui faccio un po' di riferimenti alle indicazioni nazionali perché qui secondo me le indicazioni nazionali per fortuna ci aiutano a sgombrare il campo da alcuni equivoci il famigerato sistema nazionale di valutazione se lo vogliamo chiamare col nome più conosciuto in valzi queste sono parole delle indicazioni nazionali non sono parole mie sono virgolettati se volete ha il compito di rilevare la qualità dell'intero sistema scolastico cioè il sistema nazionale di valutazione deve dire come funziona in generale il sistema scolastico italiano in particolare è interessante che ci sia scritto promuovendo altresì una cultura della valutazione che scoraggi qualunque forma di addestramento finalizzata all'esclusivo superamento delle prove c'è scritto nelle indicazioni cioè l'invalsi dovrebbe dire scoraggiare le forme di addestramento però l'invalsi quindi valuta la qualità dell'intero sistema scolastico le singole istituzioni scolastiche hanno la responsabilità dell'autovalutazione di dire come funziona il nostro istituto sono io che devo trovare dei modi per autovalutarlo l'insegnante ha la responsabilità e la valutazione della scelta degli strumenti di valutazione quindi è responsabilità e cura dell'insegnante scegliere gli strumenti di valutazione documentarli e in qualche modo giustificarli ovviamente qui si dice nel quadro dei criteri deliberati dagli organi collegiali qui ritorna una discussione che abbiamo fatto su tanti aspetti anche su questo con Lucia e con Paola e condividevamo tutti e tre del fatto che qualsiasi cosa si faccia a scuola come insegnante è bene condividere che non vuol dire in qualche modo poi che tutti la pensiamo nello stesso modo e che tutti facciamo uguale ma non pensare di essere il più ganso di tutti come si direbbe in Toscana e quindi dire io non ho bisogno degli altri perché anche se faccio la cosa più bella del mondo se la faccio da sola poi ho dei problemi a volte anche grossi problemi vengo visto come quello strano che fa le cose strane invece condividere nel senso di spiegare cosa si fa agli altri e perché si fa secondo me è fondamentale se no non si va da nessuna parte quindi chi valuta ci sono le valutazioni secondo diciamo le indicazioni nazionali c'è il sistema nazionale di valutazione quindi valutazione esterna di sistema c'è l'autovalutazione della scuola e ci sono le valutazioni del docente queste sono quelle che riconosce quei pezzettini delle indicazioni nazionali però poi chiunque abbia pratica di scuola sa che ci sono molti altri valutatori informali oltre a queste oltre a questi tre a questi tre aspetti ci sono le valutazioni degli allievi e poi ci sono le famigerate valutazioni dei genitori degli allievi e la cosa interessante è che le valutazioni dei genitori degli allievi non le ho studiate dal punto di vista scientifico appunto le ho studiate dal punto di vista di genitore di allievo quindi stando fuori aspettando di prendere i bambini e sono interessanti perché spesso e volentieri sono contraddittori fra di loro della stessa persona si sente dire fa fare poco pretende troppo oppure il mito quello che io chiamo il mito dell'insegnante di ripetizione pensa è andato tre volte da quella di ripetizione e ha capito tutto in cinque anni con quello o con quella non ha capito niente è andato tre volte a ripetizione e ha capito tutto poi c'è quella che io chiamo la sindrome delle olimpiadi figurati noi siamo sempre a parlare della tabellina del 2 in terza B sono già a fare l'equazione di terzo grado e diciamo ci si può sorridere qui la metto abbastanza sul comico se volete ma la mia impressione lavorando con gli insegnanti è che l'aspetto tragico è che queste valutazioni dei genitori secondo me vi condizionano molto alla fine e condizionano molto le scelte degli insegnanti non solo nelle cose che facciamo in classe che fate in classe ma anche nel come valutiamo quindi il fatto della presenza diciamo ingombrante dei genitori è un aspetto che condiziona molto e questo mi fa dire che uno degli aspetti importanti e mai secondo me quasi mai sviluppati sarebbe quello di condividere anche con i genitori alcune cose all'inizio dell'anno sia degli obiettivi sia di modo di lavorare sia di modo di valutare che non vuol dire diciamo appunto anche lì mettersi d'accordo quindi farsi condizionare ma condividere condividere nel senso io ti dico le mie scelte e te le giustifico da professionista della scuola ti dico io faccio così perché secondo me vale questo questo e questo sai già cosa faccio io poi tu puoi non essere d'accordo o meno si può interloquire su questo però secondo me è un aspetto interessante un racconto che faccio sempre è quello del fatto che ad esempio se non si fa un lavoro di questo tipo i genitori hanno bisogno di essere rassicurati sul fatto che i bambini fanno qualcosa a scuola vedendo che c'è scritto qualcosa sul quaderno io mi ricordo di una collega bravissima con cui lavoravo che faceva dei lavori bellissimi sull'argomentazione e ebbe delle critiche enormi perché poi i bambini arrivavano a casa e non ci avevano scritto niente sul quaderno quindi non facevano niente a matematica non stavano facendo niente e allora siccome ormai era troppo tardi per condividere per le scamotage che trovò è quello che lei faceva queste bellissime attività sull'argomentazione e per gli ultimi dieci minuti gli dava quelle belle schede che piacciono tanto ai genitori da riempire riempiva le schede e tutti contenti avevano fatto qualcosa a matematica che vedevano le schede e diciamo che condividere secondo me semplifica anche la vita insomma è faticoso però poi inizialmente è faticoso ma alla lunga semplifica la vita però ora vorrei invece passare alla valutazione degli allievi le valutazioni degli allievi sono interessanti perché noi le abbiamo tirate fuori dalla nostra ricerca nostra intendo mia di Rosetta Zan sui temi io e la matematica sul rapporto con la matematica perché nei temi vengono fuori un sacco di giudizi sull'insegnanti ad esempio Luca che dice io da quando ho iniziato a studiare la matematica non ho mai capito molto perché all'elementare avevo delle maestre che non sapevano molto e non sapevano insegnare ci sono anche giudizi positivi ovviamente però per dire moltissimi che poi esprimono giudizi sugli insegnanti avuti e ci sono vere e proprie teorie di apprendimento e insegnamento qui una situazione che mi piace molto perché mi ha sempre fatto ridere è questa dice ma se da una parte l'alunno deve studiare molto dall'altra l'insegnante deve aiutarla a fare ciò essendo più comprensiva nei suoi confronti e cercare di spiegare molto bene ma spesso questo non avviene o perché l'insegnante è a sangue freddo e non è comprensiva negli alunni o non spiega bene insomma siete a sangue a sangue freddo siete e va bene un'altra anche qui anche qui tipo lucertole anche qui diciamo l'ascoltare la voce degli studenti su questi aspetti secondo me è molto molto istruttivo e qui una citazione che faccio spesso è da questo libro controllore di matematica che non so quanti di voi conoscono che è molto molto carino e in qualche modo è una critica all'insegnamento della matematica nella scuola occidentale in realtà qui si parla di scuola americana ma ci si riconosce molti tratti comuni alla scuola nostra insomma dice tutti sanno che c'è qualcosa che non va nell'introduzione questi politici sentenzano abbiamo bisogno di standard più elevati le scuole ribattono abbiamo bisogno di più denaro di più attrezzature i pedagogisti sostengono una tesi e l'insegnante un'altra hanno tutti torto le uniche persone che capiscono come stanno veramente le cose sono quelle che più frequentemente vengono incolpate e quasi mai ascoltate gli studenti ora ovviamente qui lui la fa troppo estrema però che non siano quasi mai ascoltate sugli aspetti di cosa va e cosa non va è abbastanza vero all'università ormai è prassi fare questionari di valutazione e far fare questionari di valutazione agli studenti e anche abbastanza prassi poi praticamente infine fregarsene quando se ne discute alla fine dell'anno insomma vengono dati i dati vengono detti due numeri 3,5 la media è 4 7 siamo tutti contenti viva insegniamo bene quindi diciamo non è quello ascoltare gli studenti insomma sarebbe importante in qualche modo invece avere dei feedback un pochino più cioè avere dei feedback è raccoglierli e elaborarli che non vuol dire condividerli per forza però ascoltarli che è diverso dal poi condividere e vabbè qui appunto nel senso di ascoltarli e non è detto che non è detto che siano feedback realistici non è detto che siano feedback condivisibili qui è d'obbligo citare Brunner che è scomparso da poco e che tra l'altro è venuto a Pisa almeno un paio di volte credo sì un paio di volte e lui qui è scritto in inglese ma insomma quello che lui dice è che quando si chiede le cose a qualcuno insomma si studia alcuni aspetti narrativi non ci interessa tanto la verità quindi uno dice ma se lo chiede lo studente poi lo studente non mi dice cosa è successo davvero ma non ci interessa tanto cosa è successo davvero perché cosa è successo davvero non riusciremo mai a stabilirlo ci interessa perché lui ci vuole raccontare quella cosa lì e ci racconta quella sua versione della cosa quindi questo era un omaggio anche a un grande insomma e poi la valutazione degli studenti secondo me è importante in un altro senso nel senso dell'autovalutazione e qui sull'autovalutazione anche questo in matematica non ci si spinge troppo su questo invece soprattutto il primo ciclo secondo me è molto importante con domande del tipo come mi valuterei e soprattutto perché mi valuterei così non solo datti un voto ma come ti valutaresti e perché ti valutaresti così questo sulla sulla singola prova diciamo sul sul locale sul globale in matematica se volete anche in qualche altra disciplina ma in matematica secondo me è particolarmente importante come mi vedo e perché mi vedo così e in matematica ci sono tante teorie mi vedo come non è possibile che io possa riuscire eccetera eccetera perché mi vedo così diciamo questa attività secondo me di autovalutazione è fondamentale per due motivi per più motivi ora ne dico due poi dopo ne dico qualcun altro il primo è perché è un lavoro importantissimo dal punto di vista metacognitivo e argomentativo si obbliga il bambino a riflettere su 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 cosa ha fatto e su quanto quello che ha fatto è distante da quello che lui percepisce gli sia stato richiesto e si obbliga in qualche modo a argomentare a dirlo a scriverlo a disegnarlo a dirla a voce a quello che volete e poi secondo secondo me fornisce un sacco di informazioni aggiuntive a noi come insegnanti o come persone che in qualche modo analizzano le difficoltà sulla sua percezione delle difficoltà e sulla sua percezione delle cause di difficoltà come diceva Lockhart prima può darsi che lui sappia meglio di me perché è in difficoltà può darsi di no ma può darsi anche di sì che lui o lei tiri fuori delle cose su cui io non avevo pensato e che invece mi permettono di capire di capire meglio cosa sta succedendo qui qualcuno di voi lo conosce quasi tutti quelli che hanno seguito anche gli altri due corsi perché io lo faccio sempre questo esempio qui perché mi piace tanto il fatto di legare la valutazione all'interpretazione e appunto interpretazione di difficoltà la possibilità di avere indizi aggiuntivi sulle difficoltà anche chiedendo ai bambini l'esempio che porto sempre è il dialogo che ha costruito Rosetta alla maniera di Postman e Van Gartner che è quello dell'ospedale in cui si parla dei malati e c'è in un libro di Postman e Van Gartner che si chiama l'insegnamento come attività sovversiva lei è andata avanti e ha fatto una sceneggiatura in più rispetto a questo aspetto di interpretare le difficoltà parlano di un certo Mark e questo medico dice Mark l'abbiamo dimesso e si ricorda quelle crisi spaventose di allergia e il primario dice già secondo me di origine alimentare avevo suggerito che non mangiasse e il medico dice invece ho scoperto la causa ho ricostruito tutta la sua storia ho analizzato le informazioni e ho trovato la causa dell'allergia e il primario dice incredibile thinking lei non finisce mai di stupirmi e come ha fatto ad avere tutte queste informazioni quale macchinario non avevo usato ce lo dica lo compiamo subito e poi ci serve la tabella delle medie della deviazione standard quartili tutte queste cose qui mica improvvisiamo noi conosciamo bene il valore dei numeri a dir la verità dottor Ghillespi non ha usato un nuovo macchinario ma benedetto figliolo non faccia il misterioso e come ha scoperto tutte queste cose sul paziente chi gliele ha dette lui dottor Ghillespi quando le ho chieste questo era in linea con quello che dicevo prima chiedendo alcune cose vengono fuori ritorno al quadro di prima non solo al lavoro e si si lavora sulla metacognizione e sull'argomentazione non solo mi fornisce delle delle un feedback ma un altro aspetto su cui abbiamo dibattuto l'altro giorno molto con Lucia e Paola secondo noi fondamentale è quello della responsabilizzazione e chiedere di autovalutare è una forma di responsabilizzazione la valutazione come momento in cui l'allievo e l'insegnante si fanno carico della responsabilità del percorso educativo si fanno carico con come si può dire compiti diversi con responsabilità diverse ma entrambi si fanno carico di questo percorso allora le slide tanto poi sono disponibili quindi questo lo dico per quelli nuovi le slide poi la scuola le mette online quindi le ritrovate tutte ho trovato un leggendo varie cose che ho letto sulla sulla valutazione un esempio di possibile traccia qui usato nella secondaria ma secondo me adattabili anche nella primaria per percorsi di autovalutazione dopo un'attività o dopo un compito meglio ancora dopo un'attività se volete ed è tratta da un lavoro di Mario Castordi che è un collega dell'Università di Torino e allora dopo l'attività da tre spazi da completare cose che vorrei capire o fare meglio cose che ho imparato da questo lavoro cose che sapevo ma ora ho capito meglio questa è quella la versione che 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 dava e che è interessante una possibile variante io l'ho un po' cambiata perché alcune cose mi tornavano meglio in un'altra maniera ma insomma prendendo spunto da questa cose che non ho capito bene perché vorrei capire non lo so magari non le voglio capire però sono consapevole che non le ho capite bene cose che ho imparato e non sapevo e poi cose che sapevo già e anche questo secondo me è un feedback importante per l'insegnante perché molto spesso li facciamo fare loro cose che loro magari in maniera errata hanno la percezione di saper fare già e questo li annoia molto capire che abbiamo fatto un'attività e loro hanno visto in questa attività il ripetersi di una cosa che credono di aver già fatto di saper già è importante per l'insegnante quindi autovalutazione che ha tutti questi aspetti e ne ha uno ancora in più che forse è quello più rilevante se volete comunque insomma anche gli altri non è che non siano rilevanti secondo me chiedere a loro di valutarsi e di spiegare il perché della valutazione che danno e confrontare la valutazione che si danno loro e i perché che si danno loro con quella che daremo noi ci dà una misura di quanto siamo distanti rispetto alla condivisione dei criteri di cosa sia importante oppure no cosa è importante per me è importante anche per loro oppure hanno un'altra idea di cosa sia importante gli indicatori di questa cosa importante sono condivisi o hanno altri indicatori in mente e questo dico che è fondamentale questo è una cosa che insomma un cavallo di battaglia se volete secondo me veramente fin da piccolissimi fin da addirittura la scuola lo dicevo anche l'anno scorso alla scuola dell'infanzia è cruciale condividere cosa riteniamo sia importante e qui ho messo in matematica ma in generale cosa come insegnanti riteniamo sia importante e soprattutto il più possibile cosa ci aspettiamo da loro perché molto spesso questo è indefinito quindi loro assumono di aver capito cosa noi ci aspettiamo da loro invece essere espliciti su questo condividerlo secondo me è molto importante molto importante o comunque non condividerlo subito ma capire dopo se è stato condiviso l'implicito oppure oppure no e in questo percorso secondo me ci sono varie difficoltà una è la difficoltà perché in questi incontri parleremo delle difficoltà come insegnanti quali difficoltà ci sono nel fare tutto questo una difficoltà ovviamente legata all'età più sono piccoli e più è complesso non impossibile ma è complesso condividere alcuni aspetti ma un'altra difficoltà invece didattica è la difficoltà di essere coerenti è molto difficile su queste cose essere coerenti molto non perché siamo buoni o cattivi insegnanti per tutti essere coerenti negli obiettivi essere coerenti nei messaggi vi faccio alcuni esempi classici che ho preso dall'esperienza con insegnanti l'esperienza mia uno è sulla matematica obiettivo obiettivo ora insomma anche nelle indicazioni nazionali è l'obiettivo dell'educazione matematica insegnare ad affrontare i problemi obiettivo chiave di tutto il primo ciclo comportamento tipico è dare valutare solo su esercizi ripetitivi c'è una certa incoerenza tra l'obiettivo e su cosa valuto e loro capiscono che la cosa importante non è tanto imparare ad affrontare i problemi ma imparare risolvere esercizi ripetitivi se ti faccio vedere che risolvi esercizi ripetitivi tu sei contento contenta quindi quella è quella cosa importante altro messaggio classico sbagliando si impara valutazione ogni errore è un punto in meno a lei è meglio non imparare l'implicazione preferisco non imparare preferisco rimanere un asino altro messaggio questo è un misto tra messaggio e obiettivo la matematica ti insegna a ragionare maestra insegnante perché si fa così tu non ti preoccupare fai così che non sbagli ma a lei non le si dice in questo modo qui ma gli si fa capire non ti preoccupare del perché fai quello che ti dico io che non sbagli è chiaro che è piuttosto incoerente con l'idea che insegna a ragionare se l'insegnamento è ragionare ti dico come devi fare fai così allora diciamo in tutto questo confrontare la valutazione nostra con l'autovalutazione è interessante perché fa capire quanti le nostre naturali perché sono abbastanza naturali essere incoerenti stando non 365 giorni all'anno ma insomma tanti giorni alla 200 giorni all'anno con gli studenti in classe essere dare un messaggio per fare cose diverse però stare attenti su alcuni aspetti fondamentali secondo me è importante e confrontare l'autovalutazione con la valutazione ci permette di vedere quanto siamo non solo quanto siamo incoerenti ma almeno quanto è distante la nostra idea i nostri valori i nostri valori di scala di merito di importanza rispetto a quello che hanno percepito gli studenti l'autovalutazione qui volevo scrivere un errore è il punto di vista interno come mi vedo per lo studente come mi vedo io la valutazione dell'insegnante è un punto di vista esterno come mi vede l'insegnante il punto di vista esterno può essere anche ci sono anche sperimentazioni su questo interessanti come mi vedono in generale gli altri e quindi si può chiedere anche ai pari di valutare gli altri quindi e confrontare i vari modi come mi vedono come mi vedono gli altri questo tra l'altro secondo me è particolarmente interessante perché in matematica perché dovrebbe riuscire aiutare ad attaccare quella convinzione non sono in grado punto e basta se tante persone mi vedono in maniera diversa o comunque anche sfumatamente diversa forse metto in crisi qualche certezza mia qualche punto di vista interno in tutto questo per autovalutarsi e valutarsi un ruolo centale c'è l'osservazione cosa faccio cosa fa lo studente e un ruolo fondamentale nel passaggio tra cosa fa lo studente e il punto di vista interno e il punto di vista esterno è l'interpretazione e questo oggi ci insisto sull'interpretazione e sulla differenza con l'osservazione perché appunto molto spesso è uno dei problemi più grossi sia nella valutazione che nel sviluppo di griglie di osservazione quello di confondere i piani fra loro quindi cosa fa lo studente molto spesso quando si valuta si valuta in base a cose di questo tipo non ha fatto non sa fare non è in grado di fare non ha capito non ha studiato e la cosa interessante è che di questi cinque di cinque proposizioni è una un'osservazione le altre quattro sono interpretazioni però le mettiamo anche linguisticamente tutte sullo stesso piano e quindi ci sembra un dato di fatto tantissime volte le mettiamo addirittura nelle griglie di osservazione non sa fare una cosa e come faccio a sapere che non la sa fare io vedo che non l'ha fatta che è una cosa un po' diversa poi posso essere convinto che non la sappia fare ma è importantissimo essere consapevoli che è un livello diverso è un'interpretazione che io do di un certo fatto che ho osservato quindi io posso osservare cosa fa tra l'altro questo è venuto fuori un esempio proprio un'oretta fa ero in una riunione Skype per una scuola estiva per l'appunto e facevano facevano hanno fatto un esempio sulla probabilità e sulla difficoltà anche al primo ciclo dei bambini di lavorare sulla probabilità di ragionare sull'incerto e qui faceva l'esempio ha detto questi bambini non riuscivano questi ragazzi non riuscivano a non riescono a ragionare a dare valutazioni sull'incerto e poi dice nonostante che fuori quando vanno a compare qualcosa o devono giocare eccetera eccetera fanno valutazioni sull'incerto allora probabilmente è un problema di contesto se non riuscissero a farlo non lo saprebbero fare nemmeno fuori e tante volte ci capita con i bambini con i ragazzi questo pensiero quel bambino non mi sembra in grado di fare niente qui poi lo vedo fuori e appunto mi costruisce un meccano in 10 secondi mi mette insieme tutti i pezzi mi spiega anche come mai va più veloce mettendo un pezzo qui che mettendo un pezzo di là questo ci ci serve per appunto in qualche modo capire che è molto difficile dire non sa fare poi può darsi che non lo sappia fare però non è non è osservabile via diciamo il non saper fare quindi il punto forte diciamo che vorrei sottolineare è proprio questo distinguere tra osservazione e interpretazione ed è una cosa che all'inizio si fa veramente molta fatica perché siamo tipicamente abituati a metterli insieme osservazione e interpretazione la stessa cosa ed essere consapevoli della differenza e questo aiuta per questo aiuta a fare anche delle griglie apposite anche quando si fanno io non ho visto tante griglie se voi andate anche in giro guardate quelle che avete fatto voi andate in giro su internet eccetera eccetera in tantissime griglie ci sono interpretazioni non osservazioni e invece se è una griglia osservativa deve essere una griglia osservativa cosa vedo cosa sta facendo non cosa penso che sia successo e per quello si è comportato in quella maniera e il fatto che l'essere consapevoli che il giudizio la valutazione non è una conseguenza diretta appunto oggettiva dell'osservazione ma passa dall'interpretazione quindi io un'osservazione il famigerato Federico che fa qualcosa o non fa qualcosa passa al giudizio dico Federico è bravo in matematica e spesso e volentieri rimane nascosta l'interpretazione che è Federico fa così perché è in base a quello che io esprimo la mia valutazione esprimo il mio giudizio quindi è qui che sparisce l'oggettività della valutazione ed è un punto su cui secondo me è molto importante riflettere perché uno dei punti di difficoltà più grossa degli insegnanti rispetto alla valutazione delle competenze soprattutto in matematica è il fatto che l'impressione che la valutazione di competenze la certificazione chiamata come volete di competenze non sia oggettiva è come se quello fosse un limite la mia impressione può darsi che sia un limite la mia impressione è che non è oggettiva qualsiasi valutazione e quindi non è un problema della certificazione delle competenze è un problema della valutazione anche quando e questo diciamo anche all'università ho avuto discussioni anche abbastanza accese con colleghi su questo quando si fa una valutazione in qualche modo come si può dire stabilita a priori del tipo ogni errore un punto è meno oppure ogni quando si fa la valutazione per esempio dei prodotti della ricerca ogni prodotto lì dentro tre punti ogni prodotto lì dentro due punti ogni prodotto lì dentro un punto quello che si confonde è l'oggettività con l'algoritmicità è l'algoritmo che l'ha deciso e sono i criteri che non sono oggettivi poi una volta che ho deciso i criteri diventa algoritmica quella valutazione lì ma non è che è oggettiva perché io penso che quei criteri lì facciano schifo e quindi secondo me un criterio del genere non è oggettivo per niente favorisce valorizza persone poco valide e favorisce persone ora sto facendo un esempio a caso però la differenza tra oggettività e algoritmicità secondo me è una delle cose più importanti della valutazione e tutte le volte che valuto io in qualche modo stabilisco dei criteri poi posso stabilire dei criteri automatici oppure no quando faccio le prove degli esami di Stato cerco di stabilire automatici per avere meno problemi possibili da questo punto di vista qui però i criteri sono stabiliti a priori se io stabilissi dei criteri diversi se io avessi dei valori diversi se io pensassi che la cosa importante è un'altra non è quella la valutazione cambierebbe e allora se voi date un compito da valutare a persone diverse ve la valutano in modo diverso completamente diverso quindi diciamo è una riflessione per dire il totem dell'oggettività secondo me deve crollare nella valutazione perché non non c'è verso non se ne esce secondo me non è fondamentale l'oggettività è fondamentale la chiarezza dei criteri per me Pietro Di Martino è importante in matematica questo questo e questo e io mi aspetto da te questo questo e questo questo è condiviso e poi dopo se ne riparla insomma poi con i colleghi questi aspetti qui vanno appunto limati condivisi eccetera eccetera perché ha senso che ci sia in qualche modo ci siano degli aspetti comuni però secondo me non si può sperare che due persone diverse valutino in maniera uguale non ci si fa ed è forse un bene perché sarebbe secondo me molto triste che l'idea che io valuto come mettere il compito del mio studente dentro un computer ed è il computer no sono io che valuto e ci metto i miei valori e ci metto la mia competenza professionale nel valutare questo è un altro pezzo che mi interessa delle indicazioni nazionali molto bello secondo me che parla proprio del quando valutare se volete e la risposta che dà del quando valutare è sempre perché dice la valutazione precede accompagna e segue i percorsi curricolari attiva le azioni da intraprendere regola quelle avviate promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine assume una preminente funzione formativa di accompagnamento di processi di apprendimento di stimolo al miglioramento continuo queste sono le parole delle indicazioni nazionali e quindi le indicazioni nazionali dicono che bisogna valutare sempre in realtà è quello che si fa perché appunto questa volta da genitore non da ricercatore fanno sempre compiti non c'è mai tempo di fare niente e c'è sempre tempo di fare compiti ma la valutazione che si intende qui non è quella non è la valutazione dell'apprendimento momento per momento è la valutazione per l'apprendimento che è molto diverso quindi è il guardare cosa succede osservare cosa succede mentre si fanno attività il momento della verifica può essere importante ma veramente deve essere uno dei tanti ogni tanto e invece diciamo è molto presente nella scuola italiana anche di base del primo ciclo il compito di questo compito di questo poi l'aspetto più interessante con i bambini appunto sentendo le voci dei bambini è il compito a sorpresa il compito a sorpresa che ti dicono che c'è il compito a sorpresa che è fantastico la mia bimba spesso mi dice domani c'è un compito a sorpresa d'italiano che è secondo me è fantastico poi sarebbe interessante capire gli indicatori per il compito per capire che c'è il compito a sorpresa d'italiano perché l'insegnante poi non se la sente di farlo veramente a sorpresa allora lascia qualche traccia qualche indizio magari forse si fa va bene da questo da questo pezzettino qui viene fuori vengono fuori due cose abbastanza chiaramente secondo me importanti il primo è che per le indicazioni nazionali non solo per me non solo per noi valutare uno strumento e non un fine e questo è chiaro valutare è un qualcosa che mi permette di e un rischio che di quelli che azioni negative che diceva all'inizio dei cambiamenti che ci sono stati nella valutazione è dimenticarsi di questo e invece di usare la valutazione per migliorare la didattica usare la didattica per migliorare la valutazione che è un rigirare le cose e diciamo è un rischio che è più di un rischio è una realtà in molte realtà no? e la seconda conseguenza è appunto l'importanza predominante questo segnato dall'indicazione nazionale l'importanza predominante è la valutazione formativa e quindi il fatto che la valutazione dell'apprendimento deve essere anche e soprattutto una valutazione per l'apprendimento per capire a che punto sono come fare a eccetera eccetera e in tutto questo l'interpretazione è la chiave di volta interpretare cosa fanno i bambini in i bambini ragazzi quando fanno attività quando fanno compiti eccetera eccetera e qui in matematica c'è un nemico grossissimo e il nemico grossissimo è la convinzione anche di tanti insegnanti ma sicuramente di tanti genitori sicuramente di tanti bambini che in matematica ci sia un modo solo di fare le cose e che ci sia un modo solo anche di farle sbagliate quindi che te sbagli perché perché non hai studiato quella cosa lì perché non sai quella cosa lì e invece di modi per fare bene e per sbagliare di cause per fare bene e per sbagliare ce ne sono tantissime da ricercatori ne ho trovato tantissime con alcuni insegnanti che collaborano con noi ne abbiamo trovato tantissime ed è anche il bello di riuscire a vedere tutta questa varietà non tanto varietà di errori o di processi corretti o di risposte corrette ma di processi diversi e di cause diverse di difficoltà o di invece bravura se volete in quest'ottica come sottolinea giustamente Rosetta l'interpretazione non è appunto giusta o sbagliata non è una classificazione adeguata per l'interpretazione perché l'interpretazione diventa un'ipotesi di lavoro io ho un'interpretazione e in base a quell'ipotesi ha sbagliato perché ha delle difficoltà perché in base a quell'ipotesi di lavoro faccio un intervento a quel punto il mio feedback è l'intervento ha funzionato o non ha funzionato e se ha funzionato o non ha funzionato se non ha funzionato può darsi anche che l'interpretazione sia adeguata e l'intervento non supportasse quell'interpretazione ma può anche darsi che l'interpretazione non fosse adeguata e quindi che forse lui o lei avesse bisogno di qualcos'altro in questo da questo segue che diciamo che l'interpretazione dovrebbe dirigere e non bloccare l'intervento ad esempio un'interpretazione non è in grado non va bene perché non è un'ipotesi di lavoro non è in grado è punto mi fermo qui che è una delle interpretazioni più tipiche davanti alle difficoltà in matematica ed è secondo me una delle cause per cui poi ci sono così tante difficoltà in matematica perché le difficoltà vengono segnate e bollate come difficoltà insuperabili non è in grado se non è in grado cosa ci posso fare è lui che non è in grado un altro aspetto un pochino più fine deve essere puntuale e non generica anche le ipotesi di lavoro molto spesso sono molto generiche le più classiche sono non si impegna non ha le basi non ha metodi di studio ha un atteggiamento negativo queste non sono ipotesi di lavoro perché non danno nemmeno un feedback costruttivo allo studente alle famiglie eccetera il famoso totem del non ha le basi cosa vuol dire cosa devo sapere per ripartire se mi dici non ha le basi cosa devo fare dimmi cosa devo sapere poi magari non ci riuscirò mai a saperlo però cosa vuol dire non avere le basi non si impegna come mi devo impegnare questo guardate che sull'impegno prima o poi ci dobbiamo scrivere un libro perché non ha voglia non si impegna come mi devo impegnare come devo avere voglia e qui veramente all'università abbiamo degli esempi piuttosto lampanti del fatto che questa non sia un'ipotesi di lavoro perché io insegno a matematica a matematica viene gente considerata molto brava dalla scuola del secondo ciclo insomma non più scuola del lobby ma il secondo ciclo e qui a Pisa viene gente molto brava e si impegna anche molto e tantissimi di loro non ce la fanno ma dopo poco non ce la fanno e tantissimi di loro interagendoci non so c'ho la faccia da missionare molti di quelli che hanno difficoltà vengono a parlare con me anche se non insegno spesso non insegno ai primi anni e tantissimi di loro si impegnano in maniera sbagliata non sbagliata nel senso in quel contesto lì non è quello che gli viene richiesto lì magari stanno ora a studiare a memoria una cosa e poi il professore gli chiede la virgola diversa e vanno in crisi perché hanno studiato sono impegnati in una certa maniera non è che non ci sono impegnati ci sono impegnati ma nessuno gli ha detto come si dovevano impegnare è quello e appunto l'impressione diciamo è che queste interpretazioni queste interpretazioni che vi dicevo prima siano più che valutazioni per l'apprendimento per applicare delle strategie di recupero siano spesso l'atto di resa per l'insegnante lui lei lo studente non è in grado comunque non sono in grado di aiutarlo quindi finiamo qui finiamola qui finiamola e allora diciamo secondo noi è importante avere più strumenti interpretativi teorici in modo che se un'interpretazione non funziona ne possa avere altre poter riflettere a posteriori su quello che è successo ascoltare i processi degli studenti e mettersi in discussione che è forse l'aspetto più difficile ma è per tutti non lo dico per voi per chiunque mettersi in discussione rispetto a avrò avrò diciamo capito qual è il problema oppure no mettersi in discussione qui non sto parlando sull'aspetto didattico di cosa ho fatto in classe ma sull'aspetto di comprensione di dove sta il problema e qui insomma lo dico un po' con orgoglio di parte secondo me è fondamentale per un insegnante tenersi in contatto con la ricerca didattica perché la ricerca didattica sviluppa interpretazioni teorie come viceversa è importantissimo per la ricerca didattica tenersi in contatto con la scuola perché in qualche modo la cosa teorica poi se non ha riscontro in classe diciamo ha poco valore o anche poco realismo ma anche il viceversa è vero se io rimango ancorato alle studi alle conoscenze teoriche di teoriche dico di didattica e non dico di matematica di 30 anni fa è un po' difficile che abbia strumenti interpretativi diciamo ad hoc qui lo schema diciamo per far vedere questo è questo io insegnante osservo delle difficoltà interpreto le situazioni comportamenti attuo degli interventi di recupero se ho un bagaglio di interpretazioni diverse io posso applicare un recupero differenziato e la probabilità di successo è più alta è comunque difficile lavorare sulle difficoltà però se ho un unico metodo di lavorarci ho meno probabilità di successo perché ci sono tante difficoltà di natura diversa poi ora ancora di più prima della pausa o diciamo contemporaneamente alla pausa vi dico due cose intanto che c'è il caffè laggiù forse l'avete visto e poi dico mi hanno detto di dirvi che chi non ha firmato firmi durante la pausa perché poi insomma le presenze vengono presse tramite quello vi faccio fare una piccola attività da pensare appunto durante il caffè appena si torna chi l'ha già fatta non la faccia e non suggerisca no più che non suggerisca non influenzi non influenzi sulle diciamo conoscenze psicologiche se volete l'attività è questa vi do una breve descrizione di una persona e poi vi chiedo di mettere in ordine quelli che secondo voi sono i suoi hobby lavori più probabili chi l'ha già fatto non influenzi gli altri allora questa è la persona l'inda ha 31 anni è nubile schietta e molto brillante ha una laurea in filosofia da studentessa si interessava molto ai problemi di discriminazione razziale e di ingiustizia sociale e prendeva parte attiva alle dimostrazioni antinucleari allora la richiesta è di ordinare da 1 a 8 la lista di mestieri e hobby di linda mettendo prima quello che ritenete più probabile e in fondo quello che ritenete meno probabile primo linda è maestra elementare no no una lista dal più probabile al meno probabile mettete 1 2 3 4 5 6 7 8 linda è maestra elementare linda lavora nella libreria e prende lezioni di yoga linda è attiva nel movimento femminista linda è un assistente sociale linda è membro dell'organizzazione elettorale femminile linda lavora in una banca linda è un agente assicurativo linda lavora in una banca ed attiva nel movimento femminista allora caffè allora torniamo a linda linda volevo sapere qual è qualcuno che mi dice qual è la cosa il mestiere o il lobby più probabile che ha messo qualcuno che allora una alla volta assistente sociale perché perché ha fatto filosofia e perché nel social ha fatto filosofia nel social quanti hanno messo assistente sociale come prima assistente sociale va per la maggiore e qualcuno l'ha messo per motivi diversi da questo o perché 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 attenta alle ingiustizie ok e altri che non hanno messo invece assistente sociale liberia e yoga quanti facciamo tipo e perché liberia e yoga è bellissimo questa cosa qui perché questo giochino qui che come vedrete ha un altro scopo la la cosa più bella che viene vengono tutte le convinzioni sulla laurea in filosofia le vorrei raccogliere e dare al direttore del dipartimento di filosofia non esiste il dipartimento di filosofia perché con filosofia vai a fare quello è fantastico e quindi era la libreria e lo yoga come ultima cosa avete messo la banca allora sentiamo la giove stramanazzata banca perché perché ok è percepito come un po' un lavoro sterile per una persona che invece è brillante impegnata nel sociale quanti hanno messo banca come meno probabili di tutti alzino la mano banca chi non ha messo banca un'altra allora agente assicurativo perché perché una persona così non ce la vede a fare l'agente assicurativo chi è che ha messo l'agente assicurativo come ultimo meno meno persone qualcuno ha sentito che metteva l'organizzazione elettorale perché come ultima no no qui come ultima perché non c'è creatività chi non ha allora c'è agente assicurativo banca organizzazione elettorale chi non ha messo questi tre c'è altri maestri elementari perché ok è proprio una questione diciamo di conoscenza ha 31 anni e non ha una laurea in scienza di formazione faccio presente che questa cosa qui non è detta perché potrebbe anche averla non c'è scritto che non ce l'ha però è una implicatura maestri elementari più probabili perché perché se vuoi cambiare la società devi iniziare da quelli più piccoli allora ci si potrebbe stare in una giornata intera volevo sapere a che livello avete a che livello avete messo mettiamo sono otto uno vuol dire più probabile otto vuol dire meno probabile a che livello avete messo l'inda lavora in una banca ed è attiva nel momento femminista sei quanti l'hanno messo nel livello sei alzino la mano ok chi non l'ha messo nel livello sei quattro alzino la mano tre qualcuno sette e quelli che hanno messo sette cosa hanno messo come otto ok allora qual è il giochino il giochino è di tanti tipi uno è di come si fanno queste queste implicature se volete e ci sono vari modi di fare queste implicature un modo è quello di agganciarci a quelli che possiamo chiamare senza dare una connotazione negativa dei pregiudizi se volete un modo è quello che si discuteva prima con Giuseppina Barzacchi il fatto di li faccio siccome mi sta simpatica o mi sta antipatica dipende li faccio fare quello che vorrei facesse per completare bene il personaggio un altro è quello di identificare una linda nella nostra vita io conosco una persona più o meno così e fa quello e quindi è quello questo è l'aspetto se volete filosofico di questo giochino ma c'è un aspetto invece didattico e matematico l'aspetto didattico e matematico e questo giochino lo uso appunto a matematica io perché funziona benissimo con i matematici anche è questo che quasi tutti voi almeno per quanto mi avete detto non tutti ma quasi tutti voi avete messo in ordine di probabilità come meno probabile che l'inda lavori in una banca rispetto al fatto che l'inda lavori in una banca si attiva nel movimento femminista e questo dal punto di vista matematico è scorretto perché la probabilità di A e B è minore della probabilità di A e questo lo sapete tutti cioè il fatto che sia vera una cosa io dico quanto è probabile che sia vera quella cosa è meno probabile che sia vera quella cosa e sia vera anche un'altra lo sapete tutti la conoscenza teorica di questo aspetto qui ce l'avete tutti io tiro un dado faccio croce e tiro un scusate tiro un dado e faccio tre e tiro una moneta faccio croce è più probabile che questo o che tirando il dado faccia tre che tirando il dado faccia tre chiedo solo una cosa quindi dal punto di vista matematico quello è sicuramente meno probabile del fatto che lavori in una banca ma dal punto di vista matematico se io mi metto invece nell'idea in un altro contesto nel contesto del del gioco sociale psicologico eccetera eccetera io cerco di descrivere il più possibile quella persona e nella descrizione il più possibile a me mi sembra che calzi meglio il fatto che si attiva nel movimento femminista quindi attivo un altro tipo di ragionamento questo per dire che la vostra risposta che dal punto di vista matematico uno vi potrebbe contestare non dipende quindi uno potrebbe dire se questo fosse un esercizio non è un esercizio matematico ma se questo fosse un esercizio matematico errore di matematica è legata a una non conoscenza del contenuto no voi lo sapete benissimo che la probabilità di due eventi è minore della probabilità di uno solo di due e quindi si può rispondere in una certa maniera anche se si sa se si ha la conoscenza teorica e questo appunto colpisce tantissimo i matematici perché trovare dei giochini in cui cascano delle persone con un fortissimo background matematico non è facile e su questo ci cascano tutti gente che ha fatto tre esami di probabilità a livello universitario tutti e ci rimangono colpiti perché di cavolo effettivamente ho dato una risposta che in contesto matematico non avrei mai dato e però in questo contesto la do e allora la discussione qui è quella di chi ha discusso questo giochino si chiama non si sa quello che preferite voi quello che preferite voi ma quello che che dice Cobb è questo ricercatore e questo è un esempio di 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 che molti esempi illustrano come comportamenti che possono essere inizialmente liquidati come irrazionali io se mi mettessi nel dal punto di vista della razionalità matematica direi che la vostra risposta è irrazionale non è irrazionale perché non ha non segue quella razionalità lì ed è quello che a volte si fa in classe mi ha dato una risposta hanno senso se si prendono in considerazione i contesti nei quali i soggetti hanno operato e gli obiettivi che si hanno tentato di raggiungere in questo caso voi vi eravate messi in un contesto diverso e con obiettivi diversi quelli di descrivere il più possibile la persona rispetto alle caratteristiche che ci vedevate e guardate che questo che è molto difficile da costruire esempi di questo tipo è tipico in classe perché molto spesso i bambini soprattutto quelli più piccoli poi appunto del primo ciclo danno delle risposte perché si mettono nel contesto di quello che pensano voi vogliate quindi dicono delle cose perché pensano che voi vogliate sentire quelle e quindi si mettono in quel contesto lì e fuori da un altro contesto risponderebbero in una maniera completamente diversa e allora considerare questo prima di parlare di razionalità è fondamentale e quindi nella conoscenza interpretativa la cosa fondamentale è partire dall'idea che le risposte ai bambini hanno senso dobbiamo cercarne il senso e partire dall'idea questo è legato alla valutazione formativa insomma tutti i tipi di valutazione partire dall'idea che le risposte dei bambini e degli studenti abbiano senso non vuol dire che tutto è corretto sono due cose molto diverse non è perché se no si confonde con quello che viene chiamato in maniera dispreciativa buonismo non è dire che va tutto bene ma cerco di capire perché ti hai dato quella risposta non liquidandola come una risposta irrazionale tu mi hai dato quella risposta perché devi dei motivi per darmi quella risposta lì poi sotto ci sono delle difficoltà io devo cercare di capire cosa c'è sotto e vabbè qui no questo lo salto perché poi vi volevo ho finito insomma prima di un'attività che è una discussione che abbiamo progettato con Paola e Lucia qui appunto vi volevo solo citare un costrutto teorico che è studiato ultimamente da questi tre ricercatori una italiana tra l'altro è di Napoli che è quella che viene chiamata conoscenza interpretativa e quello che loro sostengono è che si è lavorato tantissimo c'è stato tutto un movimento in America su qual è la conoscenza necessaria per insegnare e allora si è in qualche modo descritto le varie dimensioni una è sapere cosa si sta insegnando quindi il contenuto uno è avere gli strumenti pedagogici quindi come insegnare come insegnare e uno è avere gli strumenti pedagogici rispetto a quel contenuto come insegnare matematica cioè ci sono degli aspetti pedagogici generali degli aspetti pedagogici particolari e ci sono gli aspetti di contenuto l'insegnante deve avere queste tre conoscenze e loro dicono devono averne una in più devono avere anche quella che viene chiamata conoscenza interpretativa cioè la capacità di dare essenza alle risposte dei bambini in quel contesto lì che le mette un po' in gioco tutte le tre conoscenze di prima in questo e questo è legato alla valutazione in generale è fondamentale l'osservazione continua differenziata se io osservo sempre nello stesso modo ho pochissimi elementi poi per interpretare le risposte dei bambini e l'altra conseguenza è l'importanza di focalizzarsi sui processi e non sulle risposte cioè non mi interessa tanto se mi danno la risposta giusta o sbagliata mi interessa capire come arriva la risposta allora se mi interessa capire come arriva la risposta devo chiederglielo e devo fare in modo che si abituino a raccontarmi come sono arrivati alla risposta quello è il valore principale più della risposta riuscire pian pianino è tra l'altro è uno degli obiettivi lo vedremo uno degli obiettivi chiave dell'educazione matematica quello di imparare ad argomentare e raccontare cosa si è fatto e quindi necessità di fare argomentare necessità di ascoltare realmente e in questo in questo ambito c'è stata appunto il convegno Umi-Shi mappavia non quest'anno ormai l'anno scorso a ottobre e c'è stato un intervento una plenaria di Marianella Sclavi Marianella Sclavi è una sociologa insomma molto famosa molto in gamma ha scritto un libro molto bello che si chiama Arte di ascoltare mondi possibili e lì ha fatto un intervento che era intitolato un continuo inciampo saper vivere nella complessità il materiale l'ho trovato per chi è interessato le slide le trovate e nel libro lei in vari articoli in vari talk insomma che seminari che ha fatto lei ha stilato le sette regole dell'arte di ascoltare e alcune sono veramente molto interessanti perché fanno capire com'è difficile ascoltare e lei dice queste sono sette regole che in qualche modo valgono se ne parlava prima appunto con Giuseppina Barzacchi valgono in tutti i contesti a maggior ragione valgono nel contesto scuola e ve ne leggo tre perché fanno capire la complessità la prima è non avere fretta di arrivare alle conclusioni le conclusioni sono la parte più effimera della ricerca e lei qui ricerca parla anche ricerca degli iniziati di capire cosa sta succedendo cioè prima si vuole arrivare alle conclusioni e dire quel bambino non sa fare perché e più rischia di sbagliare lasciamosi aperta la porta e il beneficio del dubbio più possibile cerchiamo di trovare più elementi possibili prima di arrivare a delle conclusioni secondo quel che vedi dipende dal tuo punto di vista per riuscire a vedere il tuo punto di vista devi cambiare il punto di vista che è un gioco di parole interessante e non è per niente banale non è per niente banale riuscire a capire cosa mi condiziona anche quel giochino che abbiamo fatto prima i pregiudizi che ho pregiudizi appunto non in senso negativo ma quello che mi condiziona nelle mie associazioni e la terza che è forse la più difficile di tutti se vuoi comprendere quel che un altro sta dicendo metterci un bambino devi assumere che hai ragione e chiedergli di aiutarti a vedere le cose e gli eventi dalla sua prospettiva e tipicamente questo non lo facciamo non lo facciamo in classe non lo facciamo in contesto sociale quando dibattiamo con gli altri con i colleghi ci mettiamo subito se abbiamo un'opinione diversa muro contro muro e invece per capire per capire la sua opinione non per dargli ragione ma per capire la sua opinione gli devo assumere che l'altro abbia ragione e cercare di capire perché chiedergli perché pensa che sia così il mondo ok come vedete sono temi piuttosto complessi e arriviamo in fondo a questa a questa discussione prima di fare la discussione fra di noi sul perché valutare abbiamo ragionato sul chi valuta abbiamo ragionato un pochino sul perché valutare ma non in toto e sul perché valutare leggo solo un pezzettino delle delle indicazioni che purtroppo come dico sempre è relativo solo è stato messo non è relativo solo è stato messo nella parte dell'infanzia ma secondo me è un pezzo che dovrebbe valere per tutto il primo ciclo che è questo l'attività di valutazione nella scuola dell'infanzia risponde ad una funzione di carattere formativo che riconosce accompagna e descrive documenti processi di crescita evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini perché è orientato a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità e la mia reazione è guai se non fosse così in tutta la scuola del primo ciclo cioè questo dovrebbe essere in tutta la scuola dell'obbligo cioè io non devo classificare e giudicare i bambini devo valutarli per in qualche modo vedere a che punto sono arrivati a che punto sono arrivato io cosa posso fare dare dei feedback anche di continuità da una scuola all'altra tanti aspetti aiutarlo nell'orientarsi tanti aspetti ma diciamo l'obiettivo primario della scuola non dovrebbe essere proprio un obiettivo ma l'obiettivo primario della valutazione spesso è quello di dire premiare quello che è primo rispetto a quello che è ultimo non ci dovrebbe essere questa cosa qui e le indicazioni lo dicono purtroppo lo dicono appunto nella parte sull'infanzia però e sul perché valutare questo dicono le indicazioni però ci sono tantissimi perché valutare che ho raccolto o che percepiamo o che insomma in qualche modo sono venuti fuori dalle discussioni con gli insegnanti perché valutare perché siamo obbligati per premiare il merito per dare un feedback allo studente per dare un feedback alla famiglia per avere un'arma di persuasione questo sempre di più quando si va in alto diventa un'arma di persuasione per personalizzare i percorsi per avere un feedback questo diciamo come riscontro invece quelli gialli sono riscontro per l'insegnante per avere un feedback sull'efficacia delle proprie scelte didattiche per ripensare le proprie scelte didattiche per progettare interventi di recupero e difficoltà vedete ci sono un sacco di perché si può si può dare la valutazione alcuni di questi sono quasi in contraddizione fra loro alcuni no a seconda di qual è il nostro perché una valutazione andrà bene e una no dipende cosa ci interessa fare se io valuto per dare un feedback allo studente e dare un feedback alla famiglia il voto numerico non mi dice assolutamente niente che invece è l'unica comunicazione che si dà alla famiglia quando si dà la scheda perché cosa vuol dire che il bambino ha sette niente vuol dire solo che all'insegnante più o meno va bene va bene come sta andando insomma non non i genitori non si devono preoccupare più di tanto ma dipende da che livello scolare diciamo però non mi dà nessuna indicazione il voto numerico che feedback mi dà cosa devo fare per migliorare quali qualità hai apprezzato quali cose invece non hai apprezzato boh che feedback è invece è l'unico feedback che di solito si restituisce è l'unico feedback che di solito interessa perché poi è un cane che si morde la coda se volete cosa valutare arriviamo così all'ultimo aspetto la cosa fondamentale è focalizzarsi sull'oggetto e qui ora appunto in coda a questo incontro faremo questo ed è fondamentale quindi riflettere e identificare gli obiettivi principali del percorso educativo a partire da quelli elaborare un curriculum coerente su queste scelte e poi in conseguenza quello che facciamo è sviluppare delle pratiche valutative e osservative coerenti con gli obiettivi che ci siamo prefissati e da questo punto di vista diciamo che la matematica ha degli obiettivi ha vari obiettivi quindi ci possono essere vari aspetti da valutare quindi l'attività che vi chiedo di fare ora vi do un quarto d'ora a gruppetti e magari ogni gruppo se lo scrive in un foglio gruppi possono essere di una decina di persone 15 20 insomma girate le sedie le sedie si girano non si girano la di 5 6 persone pensavo si potessero girare le sedie allora 5 6 persone no se no si facevano circle time no 5 6 l'intorno queste due domande particolarmente interessante se ci fossero anche di livello se di gruppi ci fossero di livelli scolari differenti cosa secondo voi è importante valutare in matematica e quali difficoltà incontrate nel valutare tra gli aspetti che considerate importanti quindi questo e poi se ci sono la seconda cosa se c'è qualcosa negli obiettivi che vi prefissate educativi che vi prefissate che ritenete importante ma che avete rinunciato a valutare o che pure pensate non vada valutata che è importante dal punto di vista formativo ma non è importante valutarla oppure che avete rinunciato a valutare perché non siete in grado di valutarla non avete trovato strumenti eccetera eccetera quindi queste due cose una quarto d'ora di discussione e poi si tira le fila ok grazie 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 ritorno ritorno qui da voi vi ho dato molto poco tempo di discutere però voleva essere solo uno spunto iniziale mi piacerebbe ora vorrei sentire un po' di cose ma mi piacerebbe che se qualcuno i vari gruppi qualcuno si prende la briga di scrivermi due righe ma non non qui per mail mi scrive due righe di quello che è emerso dai vari gruppi perché vi ho chiesto abbiamo pensato con Lucia e con Paola di fare questa attività a parte l'importanza di discutere tra voi tra persone a volte anche che non si conoscono ma perché vengono fuori alcune cose importanti la prima è che molto spesso anche come insegnanti è molto difficile riflettere su quali sono le nostre difficoltà ci facciamo fatica a riflettere su quali sono le nostre difficoltà ci vuole tempo insomma e poi il fatto che magari si vede che le nostre difficoltà sono condivise e poi magari si vede che altri hanno difficoltà che noi non abbiamo e viceversa altri non considerano difficoltà quelle che noi abbiamo e tutti questi sono aspetti importanti quello delle difficoltà condivise in qualche modo ci rassicura il fatto che non siamo noi quello del fatto di difficoltà di altri che noi non viviamo come difficoltà o di difficoltà nostre che gli altri non vivono come difficoltà è bipolare da una parte può essere il fatto che non condividiamo la centralità di alcune cose ma dall'altra può essere ed è un altro aspetto in favore della condivisione con gli altri il fatto che qualcuno degli altri abbia avuto le mie stesse difficoltà ma si è riuscito a superarle e al che ma te come hai fatto a fare questa cosa e viceversa quell'altra ha una difficoltà che io non ho o non ho più ma te come fai a gestire questa cosa come hai fatto a superare questa difficoltà quindi il fatto di confrontarsi è sempre fra insegnanti è sempre un arricchimento anche se se ne parlava ora con è molto difficile è molto faticoso ed è molto faticoso secondo me proprio perché come adulti e come adulti specializzati in particolare si fa fatica a entrare nel punto di vista degli altri cioè di solito a scuola nei dipartimenti o si ha un feeling particolare con certe persone o se no si parte male di solito nella discussione non si parte con l'idea che io possa sentire qualche cosa che mi arricchisce e viceversa che io posso dire qualche cosa all'altro perché tanto l'altro non mi ascolta e invece diciamo secondo me è veramente molto importante e come probabilmente Paola e anche Lucia che non vedo più possono testimoniare è anche questo è un processo che richiede tempo perché non è che io dico vado a scuola e racconto la cosa bellina di cui abbiamo discusso oggi tutti si convincono però pian pianino se ci si crede poi qualcuno si convince e qualcuno convince noi di altre cose e si forma un gruppo e il gruppo è poi la forza diciamo dell'andare avanti va bene veniamo velocissimamente perché poi il tempo è finito a qualche difficoltà che avete che avete evidenziato chi vuole dirmi qualche difficoltà in questo in questo aspetto della valutazione qualcuno mi diceva cioè Lucia mi diceva che qualcuno lamentava il fatto che voleva sapere da me cos'è importante valutare in matematica io poi vi dico la mia opinione e anche insomma in qualche modo è legata alle indicazioni nazionali ma volevo saperlo da voi cioè prima di dirvela proprio per non condizionarvi perché se no non ascolto il vostro punto di vista ma ascolto il mio ok risolvere i problemi non abbiamo bisogno come cosa importante e la difficoltà nel valutare la determinazione la costanza la come dire la voler rimanere sull'argomento da parte dei bambini che sono invece secondo noi rispetto agli anni passati con minore attenzione poca accettazione del fallimento sono più portati orientati e tutto subito esempio però questa è una difficoltà scusi questa è una difficoltà dei bambini perché a me sembra che questa sia una vostra valutazione quindi questa è riuscita voi pensate di riuscire a valutarli noi gli stavo dicendo quali sono le difficoltà nel valutare loro allora ad esempio i problemi del rally si alcuni bimbi maggior parte dei bimbi arrivano alla soluzione la spiegazione no come valuti questa cosa ok quindi valutare la risoluzione dei problemi quando c'è l'assenza della spiegazione ok ora ho capito altri la giù credo che il calcolo in che sé il calcolo come cosa importante o come difficoltà nel valutare il calcolo mentale che per esempio si diceva nel risolvere una divisione se c'è un determinato errore cosa bisogna dare importanza all'errore nel riporto nel fatto delle moltiplicazioni ripetute cosa ok ok chiedo una cosa velocissima a queste due persone che sono intervenute nel vostro gruppo questi aspetti erano condivisi da entrambi i livelli scolari o erano più è partito dalla primaria è partito dalla primaria e era condiviso dalla secondaria oppure no un pochino sì voi siete tutti primari ok quindi la domanda è fuori luogo per voi ok altri sì laggiù aspetti che arriva il microfono dunque noi abbiamo ritenuto importante cioè più difficile valutare i processi cioè il processo di apprendimento dei bambini perché non sempre il processo di apprendimento o i processi matematici? anche di apprendimento matematici cioè anche matematici chiedo perché prima hai detto i processi avevo inteso i processi matematici ora invece come imparano i bambini perché ogni bambino impara magari quindi i processi di apprendimento però ci sono dei bambini che imparano con più velocità dei bambini che imparano con meno velocità bambini che hanno bisogno di di concretezza bambini che invece nella concretezza si annoiano quindi cioè valutare sempre al momento opportuno qual è lo strumento adatto e essere sempre presenti in questo e in questa in questa cosa che sta dicendo qual è la specificità della matematica c'è una specificità della matematica o in generale ne avete parlato? no abbiamo no si parlava della matematica ok ok grazie ultime due poi si va alle conclusioni ci ne è qualcun altro che vuole intervenire? se no poi ok laggiù e poi e poi si va poi me li scrivete via mail perché saranno il punto di partenza del prossimo incontro noi si pensava che fra le cose più importanti da valutare fosse l'affrontare le situazioni problematiche e perché in difficoltà da valutarle? qual era la difficoltà? nel senso di la difficoltà di valutare la capacità di trovare strategie diverse fra gli alunni quindi magari risoluzioni esatte con strategie diverse ok difficoltà di valutare questa differenza di strategie e questo è interessante perché spesso e volentieri si dice che l'importanza di trovare strategie diverse poi quando si chiede noi si chiede una strategia non è che se ne chiede di più quindi fare questo è diciamo è interessante perché è un esempio di come una difficoltà può stimolare un tipo di attività quindi io ti dico ti do un problema ti faccio fare un problema si discute il problema vengono fuori delle soluzioni a quel punto te ne do un altro ti dico trovami un altro modo di risolvere il problema e allora posso provare a vedere se a valutare questa cosa qui invece tipicamente no si dà il problema e poi vogliamo sapere come fai a volte non vogliamo nemmeno sapere come fai vogliamo solo sapere la risposta ma anche se vogliamo sapere come fai una volta che mi hai detto come hai fatto in uno modo va bene non è che ti chiedo fammelo in due tre quattro cinque cinque modi diversi e questo è molto interessante e connessa a questa difficoltà anche la difficoltà di valutare l'argomentazione ok sì ed è sì ed è quello su cui ci concentreremo in particolare sugli aspetti che ci concentreremo però le difficoltà invece vorrei prendere quelle che mi scrivete voi per mail perché per l'appunto sul caso della matematica il primo ciclo l'avevamo visto anche l'altro anno le indicazioni nazionali si concentrano su problem solving e argomentazioni quindi cosa è importante beh non male io lo condivido ma prendiamo quello che ci dicono le indicazioni le indicazioni ci dicono che in particolare è importante problem solving e argomentazioni e questo mette in gioco tante cose mette in gioco il calcolo che hanno detto loro mette in gioco per esempio la comprensione del testo mette in gioco la produzione di un testo quindi problem solving e argomentazione vuol dire tantissime cose e tra l'altro è in continuità con il primo ciclo qui per chiudere io cito sempre i miei bimbi quindi li cito anche qui in questa occasione per condividere più o meno esplicitamente cosa è considerato importante se noi lavoriamo su problem solving e argomentazione e valutiamo problem solving argomentazione come vi dicevo passiamo al messaggio di cos'è importante la cosa interessante è che Cecilia mia figlia si lamentava siccome è una gran chiaccherona si lamentava del fatto che tante verifiche fossero a crocetta le dava noia perché lei vuol chiacchierare anche nelle verifiche io ho studiato voglio dire la mia e a crocetta non le riesce a dire la sua e allora io lì per lì appunto mi aveva colpito questa cosa qui del fatto che volesse ovviamente non va presa come magari invece il 99% dei bimbi vuole la crocetta ma non sto parlando del vuole per qui spieghiamoci non vuole perché è più facile perché più facile lo dice anche lei che è più facile vuole che gli piace che è un po' diverso e allora io poi ero interessato e le ho detto scusa ma matematica cosa fate e lei dice ma matematica è diversa dobbiamo fare qui era l'elementare dobbiamo fare le operazioni oppure a geometria calcolare l'aria e vedete che nell'aspetto matematico lei riconosceva come importanti gli aspetti computazionali non più non quelli di chiacchiere che invece riteneva importanti quegli altri e quindi qui è appunto per chiudere proprio l'idea di valutare nel senso etimologico del dare valore io ho cercato anche sul dizionale etimologico e valutare come dare valore alle cose dare importanza alle cose e secondo me questo è il primo aspetto dell'insegnante quello che io valuto ma non valuto nel senso del compito ma le attività a cui do importanza a cui do valore passa molto di solito passa molto poi possono non condividere possono fregarsene però loro hanno tutte delle teorie su cosa per noi è importante rispetto alla disciplina vabbè qui vi lascio con il mio indirizzo e mele è una citazione che ho trovato che penso sia presa da un murales e mi piace tantissimo rispetto alla valutazione e rispetto a il fatto di cosa si valorizza di solito nella scuola e nella scuola del primo ciclo in particolare spesso e volentieri e matematica ancora di più che è questa grazie alla prossima grazie a tutti grazie a tutti